tranquillo uno, due, tre 4 no, io tu questo punto è un peccato oh, Davide Giovanni qui è lui contro tutti va cuolo vabbè posso giocare anche con la pizza posso giocare con la pizza hai tanto pisciato papà, tu hai vita? mi hanno riusciato vabbè cosa? io devo assicurare tre contro tre no, ma giro tu sei salti e ti spacchi tutto dai, dai, dai uno, due, tre, quattro, cinque luca luca, reggae cosa aspetti cosa ti puoi fare? io io sono faiare la professoressa chi non si? scusa, scusa, tu prof guardami prof guarda il cielo piano non parlare no, no, così dai no Davide direi giusto no, è appunto stiamo aspettando stiamo aspettando se io lo spieghi tu non so il favore è per impossibilità Davide e poi hai le trozioni io se fosse appunto tutto io se fosse appunto tutto io se fosse appunto tutto Davide vai dai, come è inizia fotografia uuh è passata oh, non lo do la macchia dove hai fatto tutto uno, due, tre, quattro no, non è Davide eh, tu hai toccato eh, dai, 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 dai dai, dai, dai hai un film Luca è giocato è giocato voleva, voleva essere arruciato è giocato apposito io non so è giocato